ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del let's play di minecraft nella scorsa puntata nella zona industriale ho costruito una farm per creare la rooted dirt la terra con le radici che uso spesso nelle mie decorazioni soprattutto nella zona a cui sto lavorando in questi ultimi mesi e a proposito di nuove zone nuove costruzioni oggi andremo a costruire un meccanismo di redstone in una di queste che ho fatto nelle ultime settimane se mi seguite solamente qui su youtube non avete ancora visto questa zona altrimenti se venite anche in live ogni mercoledì venerdì e domenica allora sicuramente avrete anche partecipato alla costruzione di questa parte del mondo ci troviamo nella zona vicino al castello come vedete qua ci sono dei pillager che ho catturato mi serviranno poi per decorare la zona ma oggi dobbiamo entrare nella chiesetta che credo di avervi già mostrato diverso tempo fa in ogni caso guardarla ancora una volta non ci fa di sicuro male come saprete qua nella chiesa si trova anche una cripta che si raggiunge attraverso questa scala a chiocciola ed eccola qua l'ultima volta che vi ho mostrato in questa serie questa cripta aveva la parte qui dietro l'altare completamente chiusa ma finalmente ho aperto questo cancello e adesso potremo scendere nelle catacombe una zona davvero cupa dove ho utilizzato tantissime build hack data pack per poterla decorare diciamo che ultimamente minecraft non offre tantissimo dal punto di vista delle decorazioni quindi utilizzando comunque strumenti vanilla ho voluto aggiungere molti dettagli e vedrete saranno davvero interessanti uno di questi per esempio è l'utilizzo delle teste per decorare tutto quanto ma proseguiamo il nostro tour e andiamo nelle catacombe allora attraverso questo cancello e qui ho usato un'altra build hack vedete ragazzi con un data pack ho potuto eliminare la parte di sbarre di ferro che va ad attaccarsi al muro e quindi questa sembra una vera e propria porta aperta scendiamo e andiamo nella primissima stanza e ragazzi o qualcosa di davvero inquietante si pone davanti a noi come vedete c'è un ender eye enorme all'interno di questa spaccatura nel muro allora qua ho voluto rendere un po inquietante tutto quanto aggiungendo questo dettaglio come vedete qua c'è anche una tomba o meglio una bara e ora andiamo ad aprirla perché ovviamente ci sono anche i resti di una persona che sembra essere importante perché come vedete aveva una corona e da questa parte altra piccola build hack con ossa e bone meal messe in una certa posizione per simulare i resti di questo che poteva essere sicuramente un regnante probabilmente ma proseguiamo il nostro tour perché dobbiamo scendere ulteriormente e andare nelle catacombe vere e proprie ragazzi chi ha visitato le catacombe saprà che sono un luogo molto molto inquietante si trovano tantissimi teschi diciamo non è sicuramente rassicurante e ho cercato di rendere questa atmosfera e ragazzi guardate a partire dall'illuminazione è tutto davvero molto creepy allora qua come vedete mi sono sbizzarrito ad utilizzare tantissime teste con i teschi uno diverso dall'altro in modo da rendere al meglio ci sono anche delle ossa per terra vedete dei resti anche perché sono catacombe che comunque in qualche modo sono antiche e quindi potrebbero anche crollare e ho aggiunto anche un altro dettaglio guardate qua sopra ho appeso dei pipistrelli che non si muovono sono praticamente bloccati ma stanno davvero bene proseguiamo quindi il nostro tour e andiamo avanti vedete anche qua c'è una parte con tutte queste nicchie e qua arriviamo a un crocevia vi faccio vedere con la luce un po meglio da questa parte vi farò vedere dopo si sale a quelle che saranno poi le prigioni del castello perché ci sarà un collegamento vi ricordate la storia che il regnante in caso di pericolo poteva scendere nelle catacombe attraversarle arrivare nella cripta e da lì uscire da una caverna che dà sul fiume con una barca e quindi scappare ecco ho realizzato finalmente questo percorso le prigioni però sono ancora da fare da questa parte vi faccio vedere che ho messo un armor stand sdraiato o meglio è un pezzo di armor stand e devo dire che anche in questo caso rende davvero bene tutto quanto e qua abbiamo altri teschi da questa parte invece ho voluto creare una sorta di crollo qui le catacombe si fermano vedete che c'è dell'acqua che praticamente scende da qua sopra ecco le goccioline che stanno arrivando e qua ovviamente essendo crollato tutto è anche un po' pericoloso ci sono delle candele per terra e poi ovviamente tutte queste nicchie un po' come dall'altra parte e qua in fondo al corridoio c'è l'ultima stanza che ho fatto dove oggi andremo a costruire un meccanismo di redstone davvero particolare mi sono immaginato che nell'epoca medievale i cristiani perseguitati si rifugiassero all'interno delle catacombe per poter compiere i vari culti e quindi dovevano anche avere una zona dove battezzare le persone e quindi questa se vogliamo è una sorta di lavacro battesimale non so come si chiama esattamente e quello che voglio costruire oggi è un passaggio segreto che ci porterà a una sorta di tesoro e questo passaggio segreto si aprirà semplicemente andando a togliere l'acqua all'interno di questo calderone e ovviamente si chiuderà rimettendo l'acqua nel calderone questa cosa quindi farà sì che qui si apra una scala che scenderà ulteriormente e poi arriveremo a una stanza che non credo costruiremo oggi ma che andremo a studiare un po' come la stanza dove indiana jones aveva trovato il sacro graal vi ricordate il film bene sapete che a me piacciono tutte queste cose con avventure tra bocchetti esplorazioni ebbene voglio ricreare una cosa del genere anche qui la cosa interessante che avendo messo qua una dripstone che fa scendere l'acqua il calderone anche se noi lo svuotiamo con un secchio potrebbe riempirsi proprio perché scende quell'acqua e quindi noi restando all'interno della stanza qua sotto potremmo a un certo punto rimanere bloccati perché il passaggio segreto si chiuderebbe alle nostre spalle quindi dovremo stare molto attenti a questo punto ragazzi non mi resta che andare a prendere tutto necessario e iniziare i lavori allora innanzitutto ho tolto le shaders per farvi vedere meglio anche se devo dire che l'atmosfera un po' ne risente ah là c'è un altro pipistrello dobbiamo aprire innanzitutto la parte qui dove andremo a fare questa scala che sarà in questo punto e ci farà scendere e poi qua dobbiamo aprire tutta questa parte per mettere il meccanismo ecco lo scavo che ho fatto per contenere tutto quanto il meccanismo che non è complesso di per sé però è stato un pochino più difficile riuscire a compattarlo per farlo stare in un piccolo spazio e soprattutto a renderlo completamente invisibile a chi entrerà in questa stanza ma adesso scendiamo e iniziamo a costruire allora ci servirà mettere della cobblestone qua della cobblestone qua e della cobblestone qua poi in questo punto qua dobbiamo andare a mettere un comparatore che andrà a leggere che cosa questo copper bulb che abbiamo già visto forse ma che vi rispiego questa è una lampada che si accende o si spegne semplicemente con impulso di redstone ma mantiene sostanzialmente il suo stato quindi non è come una lampada di redstone che se togliamo il segnale questa si spegne questa rimane accesa e ci servirà praticamente da interruttore per aprire e chiudere il meccanismo che come vi dicevo si aprirà quando toglieremo l'acqua da questo calderone cosa significa se noi con degli observer andiamo a guardare lo stato del calderone ogni volta che toglieremo o aggiungeremo dell'acqua questo observer darà un impulso che verrà letto a quest'altro che verrà letto da quest'altro che verrà letto a questa volta da quest'altro e quindi cosa succederà che questo bulb si accenderà adesso vi faccio vedere se io vado qua sopra il copper bulb adesso è spento vado a togliere l'acqua qua dentro e il copper bulb si accende la vado a rimettere e il copper bulb si spegne e ora possiamo costruire il resto del meccanismo allora qua ci serve il primo pistone appiccicoso rivolto verso l'alto sentite facciamo così e facciamo così facciamo prima perfetto in realtà ci serviva qua nulli ok qua perfetto e qua invece ci serve un blocco così perfetto poi qua andiamo a mettere della redstone in corrispondenza di questo no questo serve qua di questo blocco qua quindi redstone qua così e qua un altro blocco qua con la redstone che sale così poi qua andiamo a mettere un repeater quindi qua con questo ritardo così e qua andiamo a mettere altri due blocchi sostanzialmente qua uno da questa parte e uno da quest'altra qua sopra non andiamo a mettere nulla qua ci servirà della redstone che mettiamo qua e qua andiamo a mettere una torcia di redstone che adesso vado a fare che mettiamo in questo punto qua molto bene adesso qui andiamo a mettere un blocco di questi che sarà praticamente lo scalino più in basso e quindi qua potremo poi costruire la nostra stanza poi andiamo a leggere lo stato di questa torcia di redstone quindi facciamo così e qua andiamo poi a portare il segnale qua quindi facciamo così perfetto quindi questo legge lo stato di questo che si accende e qua porterà lo stato a questo poi qua andiamo a mettere della redstone e qua iniziamo a salire con il segnale quindi è meglio che lo faccio così perfetto e qua sopra andiamo a mettere la redstone in questo modo siamo quasi alla conclusione perché ci servirà mettere della redstone qua così poi qua andremo a mettere un pistone appiccicoso da questa parte che andrà a togliere questi tre che faranno da pavimento ora questi adesso non sono allungati però quando praticamente saranno allungati reggeranno il blocco del pavimento e questi saranno quelli che poi scenderanno poi qua dobbiamo andare a mettere altra cobblestone quindi qua mettiamo della cobblestone qua della cobblestone qua qua sopra andiamo a mettere un repeater questa volta così ma senza nessun ritardo e qua sopra andiamo a mettere della redstone così ora ultimo pistone appiccicoso che andiamo a mettere qua e qua sopra possiamo mettere i nostri blocchi del pavimento così ok perfetto ragazzi adesso dobbiamo un attimino azionare tutto quanto come vedete compattissimo e vedere se poi funziona allora stavo facendo delle prove ho commesso un piccolo errore qua non va il blocco intero con sopra la redstone ma va un mezzo blocco e poi adesso stavo notando che con il calderone vuoto il passaggio è chiuso io vorrei il contrario come fate a invertire mettete l'acqua il passaggio vedete che si è aperto quindi qua c'è la scala ma noi possiamo andare a far accendere questa togliamo pure adesso il nostro bottone questa rimane è accesa e abbiamo esattamente invertito tutto il funzionamento con l'acqua dentro il passaggio è chiuso senza acqua il passaggio si apre e quindi ci fa scendere chiaramente qua adesso dobbiamo andare a mettere dei blocchi per nascondere è chiaro no qua dentro non dobbiamo far vedere nulla ma se noi andiamo a chiudere qua il pavimento e anche da questa parte il meccanismo sarà completamente nascosto ecco facciamo così qua ci possiamo mettere anche questi blocchi non blocchiamo nulla e ragazzi vedete che il nostro pavimento è completamente nascosto e voilà guardate qua anche qui possiamo mettere un blocco senza nessun problema poi li vado a prendere ora vado a mettere l'acqua e voilà ragazzi guardate che figata e voilà ragazzi ecco qua ripristinata la stanza il pavimento come vedete è esattamente come prima non si nota assolutamente nulla ma noi sappiamo che qui c'è un segreto ho ancora evitato di mettere l'acqua sopra la dripstone che va di nuovo a riempire il calderone nel caso lo svuotiamo perché se dovrò lavorare alla stanza c'è il rischio poi che rimanga bloccato dentro lo farò alla fine quando avremo terminato tutti quanti i lavori andiamo a testare ancora una volta questo meccanismo che è davvero spettacolare so che lo utilizzerete anche voi perché è semplice ma efficace andiamo ad aprire voilà bellissima la nostra scala come vedete ho nascosto tutto si vede solo questo pistone non c'è niente da fare però dai ragazzi si può anche mantenere così ora qua ho fatto questa stanza così naturalmente sarà più grande sarà tutta quanta decorata ma dovrete seguirmi se volete vedere che cosa andrò a costruire ora torniamo su e andiamo a chiudere il nostro meccanismo e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio mi raccomando come sempre lasciate un like e se volete anche un commento e venite a trovarmi questa sera in live su twitch alle 20 e 30 link come sempre in descrizione a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti